buonasera buonasera a tutti quanti benvenuti a questa serata del 37esimo torino film festival l'anno scorso chi magari era già qui l'anno scorso e ha avuto modo di vedere quell'opera meravigliosa che si intitolava La Flor, giustamente un applauso, sa che quella cosa che era molto più di un film nasceva sì dal suo regista Mariano Ginas ma nasceva soprattutto da quello che è molto più di una società di produzione un vero e proprio collettivo artistico che si chiama El Pampero Sine, anche il film che state per vedere che si intitola Pore il Dinero nasce da El Pampero Sine e il suo regista era stato montatore per La Flor si chiama Aleko Mujijanski e vi prego di accoglierlo con un caloroso applauso noi abbiamo amato tantissimo La Flor, abbiamo amato altrettanto Pore il Dinero che è un film che parla, poi ve lo racconterà Aleko molto meglio di me, è un film che parla della grande difficoltà di chi vuole fare arte, qualcosa di significativo e confrontarsi invece con la necessità di avere i soldi per fare quello che è necessario fare. È un film che nasce da esperienze reali perché è basato su un'opera teatrale che lo stesso Aleko aveva messo in scena con lo stesso gruppo di attori che vedrete sullo schermo e ancora una volta cammina su quel crinale impervio tra la realtà, la finzione, la finzione dentro la realtà e la realtà dentro la finzione che già caratterizzava La Flor. Non so se Aleko vuole dirvi qualcosa prima dell'inizio della proiezione. Grazie Quanta gente qui vio Las 14 Horas di La Flor? Quanti di voi hanno visto Las 14 Horas di La Flor? Ah, bastanti 3% 3% Vagia bene Vagia bene Grazie per vedere Las 14 Horas di La Flor E' un honor di essere qui in Torino Vereva Estabili Estui molto contento Amo Este micrófono al andar Más o menos Oh, oh, oh Decia che sto Veni E' unoloe Noi Amo ilktor è italiano Io lasperai Che mi mettere いう schwer Ci sono Cioè Ci sono fibra Lex a Rambo, a gente che si sava di tango in mio paese, io mi piace le film di Rossellini di memoria e posso recitirli piano per piano e in questo senso sono molto contento di essere qui questa film, Por il dinero è una film che streniamo in maggio in Francia e che filmiamo perché chiusciamo per la necessità di filmarla in tutto sentito però soprattutto perché chiusciamo, quindi spero che le gusti e che la considerino una film italiana e questo funziona, sì e vi ringrazio allora di aver visto le 14 ore della Flora quindi sono veramente contento, felice di essere qui anche perché non solo amo l'Italia ma anche il cinema italiano ci sono cresciuto e ho imparato a fare cinema con il cinema italiano insomma c'è già io Rossellini, Antonioni Fellini nel senso c'è gente che nel mio paese che cresce e impara che ne so gente che impara le poesie di Rainbow a memoria gente che impara perfettamente il tango io insomma posso vi ho imparati a memoria li conosco tutti i studi di loro film a memoria inquadratura per inquadratura quindi diciamo per quanto riguarda questo film è stato è uscito l'abbiamo presentato a Canna Maggio e diciamo che l'abbiamo fatto perché volevamo farlo proprio perché era quello che volevamo fare senza nessun'altra motivazione di base ma era quello che volevamo fare e proprio perché è un prodotto di passione spero che vi piacerà buona grazie spero che stiamo qui in breve hai che felicitare la traduttora che si perde una precisione spettacolare un applauso anche se è un applauso magnifico e niente come giustamente ricordava Alego dopo la proiezione per quanti di voi saranno interessati lui rimarrà qui con noi per una sessione di Q&A come si dice ai giorni nostri grazie mille buona visione